Nel 1956 dopo una promettente e dura gavetta, con serate dal vivo nelle Valere Lombarde, Vilma De Angelis esordisce nel mondo dello spettacolo vincendo a Boario Terme il titolo di Reginetta del jazz italiano, con le interpretazioni di My Fanny Valentine, Summertime, a Foggy Day, brani che già aveva nel repertorio del gruppo jazz nel quale era stata inserita, accompagnata dal maestro Walter Malgoni Noto autore, nel 1957 registra quattro pezzi completamente diversi affinché si potesse proporli ad una casa discografica, incide dunque un Extended Play, Q-Disc, con la Philips che le offre un contratto discografico Nello stesso anno è richiesta la sua partecipazione al Festival Jazz di Sanremo, che si svolgeva una settimana prima del Festival della Canzone Italiana Qui viene notata dal maestro William Galassini, che la scrittura nella sua formazione per una serie di spettacoli radiofonici che venivano, trasmessi dalla RAI Nel frattempo la Philips punta su Wilma come interprete di famose canzoni italiane già cantate da, altri cantanti, facendole incidere per il mercato estero In particolare quello olandese, una serie di 45 giri tra cui Casetta in Canada e a Firenze in Carrozzella con le quali la cantante Diviene incontrastata regina della canzone italiana nei Paesi Bassi Intanto Wilma si esibisce al Santa Tecla e dal nuovissimo Olimpia di Milano Partecipando inoltre al Festival Città di Roma In seguito viene scritturata dalla RAI di Torino per alcuni spettacoli con l'orchestra di Galassini Nel 1958, nel frattempo Wilma collabora con alcuni compositori per incidere delle lacche che gli autori Presentavano poi a svariati concorsi Successivamente partecipa alla RAI sei giorni della canzone a Milano dove ha modo di cantare dal Vivo insieme a Mina, Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Miranda Martino e Tony Renis Per lo spettacolo di fine anno La RAI allora agli albori Ingaggia Wilma con Eulad e Palma per allietare gli spettatori del Principe di Savoia a Torino Debutta al Festival di Sanremo interpretando Nessuno nel 1959 Ripetuta da Betty Curtis e per tutta la vita Proposta anche da Eulad e Palma Questa partecipazione dà enorme popolarità alla cantante che viene invitata anche al Festival di Napoli per interpretare Cerasella in coppia con Gloria Christian Nello stesso anno partecipa al Festiva Calabrese della canzone italiana di Vivo Valencia Dove con la canzone possibile che un bacio si classifica al quarto posto Questi brani conquistano le classifiche e Wilma diventa subito una beniamina del pubblico canoro Partecipa inoltre con successo al programma radiofonico Il traguardo degli assi condotto da Corrado, Wilma prende parte anche a Buone Vacanze ideato da Gorni Kramer e dal regista Antonello Falqui Nel grande varietà televisivo Successivamente si presenta alla prima edizione del Festival del Musichiere e con il brano soltanto Tu si piazza al terzo posto Canta anche a canzonissimo ottenendo un plebiscito di voto che la fanno giungere in finale Qui Garinei e Giovannini inaspettatamente la fanno duettare con Mina sulle note di nessuno Regalandoci quello uno sketch, che ancora oggi viene trasmesso